Dopo la grande partecipazione di pubblico al convegno sul tema femminicidi nel Salone della Biblioteca Comunale di Atripalda nell'ambito delle iniziative Atripalda il giovedì di riflessione biblioteca promosse dall'Associazione Avellino per il mondo Caritas Migrantes con il patrocino del comune, questa mattina confronto con gli studenti del liceo De Capraris di Atripalda. Un interessante incontro tra una rappresentanza di studenti e docenti voluto dal dirigente scolastico spagnolo ed Elvira Napoletano dell'Associazione Avellino per il mondo sull'importante messaggio di solidarietà che la Caritas e Migrantes stanno portando avanti attraverso il progetto Africa Chiama, l'Irpinia risponde per il villaggio di Tidelli in Senegal. Un progetto che ha trovato risposta in tanti aiuti ricevuti da cittadini, aziende, volontari, attività per dotare di un poliambulatorio il villaggio ma anche per i tanti doni regalati ai bambini e alla gente di questa piccola terra in Senegal. Elvira Napoletano, volontaria da sempre in prima linea in questo progetto, ha raccontato le emozioni che ha provato in questa esperienza unica, come ama definirla, e il legame che si è creato con la gente del villaggio Tidelli e l'Irpinia, a testimonianza di quanto sia importante la solidarietà che è alla base anche del prossimo progetto in aiuto al Madagascar. Madagascar